Un tempo le nostre case erano arricchite da freschi, queste grandi opere monumentali che erano sulle pareti, sui soffitti, sulle volte, e trasferivano il loro valore artistico ai nostri ambienti di lavoro, ai luoghi pubblici, alla casa privata. Di lì a non molto questa arte è stata trasferita a oggetti più piccoli, trasportabili, le tele. Le tele permettevano di spostare il loro valore da un edificio a un altro, e così la casa ha perso il suo valore di oggetto che poteva portare in eterno un valore artistico per trasferirlo agli oggetti in essa contenuti. Quello che vediamo in questa immagine lo riconosciamo tutti, è un telefono, un telefono a fili, ma è anche un luogo. Rappresentava dei luoghi della nostra casa, ben definiti, nei quali noi svolgevamo un'azione semplice, quella di telefonare. Ed eravamo soliti a dire delle frasi del tipo, vado a rispondere, oppure vado a telefonare, perché andare, bisognava spostarsi per raggiungere questo posto, rappresentava un luogo. Di lì non molto abbiamo demandato questa funzione a oggetti più piccoli, più compatti, magari avanzati tecnologicamente, ma che ci hanno portato a cambiare anche il nostro modo di parlare. Oggi diciamo, ho perso il telefono, non trovo il telefono. Quindi il telefono, che un tempo rappresentava una posizione, un luogo, oggi perde anche la sua posizione. E così lo hanno fatto anche altri oggetti della nostra casa. La libreria, per esempio, che prima era difficile da collocare nell'ambiente delle nostre abitazioni. Dovevamo capire come sistemarla dentro le nostre stanze. Scegliere la stanza giusta, perché la libreria sarebbe stata difficile poi da spostare in seguito. Oggi abbiamo trasferito tutte queste parole che leggiamo in dispositivi più piccoli, dai pc agli smartphone. Le librerie diventano oggetti di arredo, per alcuni gusti e alcuni stili. Da questo divano, da un divano come questo, quello che abbiamo tutti in casa, possiamo viaggiare, possiamo spostarci nel tempo e nello spazio, attraversare il pianeta. Magari viaggiare in città che andremo a visitare di lì a non molto, oppure visitare dei luoghi che non visiteremo mai. Ci spostiamo in queste vie con la comunicazione, con il digitale, senza viverli davvero. Dematerializziamo continuamente la nostra esistenza con questa comunicazione, con questo modo di trasferirci. E la nostra esistenza diventa un continuo mutare da stati di transizione. Il tempo diventa ogni tempo, il luogo diventa ogni luogo. In continuo mutamento, in continuo cambiamento. E allora, se dematerializziamo costantemente la nostra esistenza, qual è il vero senso dell'abitare un luogo fisico? L'architettura tradizionale ha sempre provato a dare un senso ai luoghi, a utilizzare i materiali più pregiati, più durevoli, per poter attraversare il tempo, per essere infinita la sua durata. Ha provato a trasferire nel futuro l'identità dei luoghi. E quindi possiamo riconoscere la città di Palermo, la città di Napoli, perché il tessuto edilizio che le compone è ben definito, è riconoscibile. Ma se da un lato l'architettura tradizionale riesce a dare una risposta alla sete, al bisogno di identità, può dare risposta alla sete di cambiamento, al mutamento? Un tempo l'abitare era certo, determinato e stabile. Oggi è incerto, indeterminato, instabile. Una risposta prova a darcela all'architetto giapponese Shigeru Ban, che realizza con tubi di cartone pressato un edificio di culto, il Paper Dome, a Kobe, in Giappone. Nel 1995 questa città era stata distrutta da un evento sismico e serviva un luogo di culto immediato per permettere alle persone di riconoscersi di nuovo in un luogo. Questo edificio doveva durare tre anni perché dopo questo periodo sarebbe stato costruito un edificio definitivo. Ebbene, piacque così tanto la gente che di anni ne durò dieci. E nel 2005 fu ceduto alla comunità di Taiwan perché è stata colpita da un evento sismico in Chessa e oggi è tuttora fruito. Quindi un edificio che doveva durare tre anni ne durò dieci e tutt'oggi è utilizzato. Questo vuol dire che non fa il materiale base che compone l'edificio, non ne determina la durata. In questo divano sono state consumate pagine e pagine di appunti. Inizialmente da solo ho iniziato a fare un viaggio per capire quale materiale potesse rispondere a determinate caratteristiche per poter essere trasferite al settore dell'architettura. Dopodiché ho coinvolto un gruppo di amici, colleghi, fratelli che hanno condiviso con me questa idea. Utilizzare il cartone ondulato come materiale da costruzione. Ma come era possibile farlo? Con quel viaggio ho capito che le scatole in cartone potevano essere molto resistenti. Perché? Perché impilate una sull'altra permettono di fare viaggi al materiale che contengono in totale sicurezza. Magari in vagoni frigoriferi, magari in più e più volte, con numerosi cicli di riempiego. E così da qui parte un'idea. Prendere ad esempio la scatola di cartone e trasferirla a un pannello costruttivo per l'edilizia. Questo pannello è realizzato da scatole di cartone coassiali. Una scatola dentro l'altra, circondate all'esterno da un foglio che permette di aumentare la resistenza. Chiaramente, come tutte le scatole di cartone, cava all'interno. Quindi è possibile riempirla con materiale sfuso, riciclato, riciclabile, oppure di scarto. Questi pannelli quindi possono essere tarati in base al luogo in cui devono essere utilizzati. Per esempio, se dovessi dividere un ambiente per un periodo di tempo determinato, sarei un folle a utilizzare il mattone. Perché so che dopo quel periodo io dovrò smantellare quel divisorio. Stessa cosa per il cartongesso. Potrei utilizzarlo, ma quando non mi servirà più quel materiale lì, che fine farà? Me lo sono chiesto prima. Il cartone ondulato arriva pronto per essere montato e allo stesso modo per essere smontato. Ma ci siamo voluti spingere oltre. Nel 2018, con un workshop di architettura, abbiamo coinvolto 31 studenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura di Catania. Li abbiamo coinvolti, li abbiamo fatto vestire gli abiti da lavoro e lavorare per due mesi alla realizzazione di un edificio pilota, il primo prototipo abitativo con struttura portante in cartone ondulato. Questi studenti hanno realizzato il 90% delle operazioni in officina, producendo i pannelli costruttivi e la restante parte in opera, costruendo l'edificio. Un edificio talmente leggero che abbiamo dovuto appesantirlo per evitare che volasse via. La sua leggerezza ci ha permesso di renderlo invulnerabile alle onde sismiche. Leggero ma resistente, perché all'interno è riempito da fibre cellulose sfuse, e quindi il conforto ambientale è garantito. Un edificio smontabile in componenti e rimontabile in un altro luogo. L'idea da cui sono partito qual è stata? L'idea è che per certi tipi di edifici servisse la possibilità di essere smontati e trasferiti. Per esempio, gli edifici di emergenza. In caso di calamità naturale, le stesse vittime che devono trovare casa o un alloggio immediato possono montare in autocostruzione questo edificio e quindi riconoscersi in esso, anziché essere proiettate e spostate in case di fortuna. Questo edificio è effimero, transitorio, smontabile, disintegrabile. Disintegrabile tecnologicamente, in quanto i suoi componenti possono essere smontati e rimontati in un altro posto. Disintegrabile fisicamente, in quanto i singoli materiali possono essere riciclati per produrre materia prima e seconda. o disintegrabile biologicamente, in quanto alcuni dei materiali basi sono biodegradabili. Qual è il rischio che corriamo? Il rischio che corriamo è che l'abitare contemporaneo non ci sia una risposta concreta all'abitare contemporaneo. L'abitare contemporaneo in continuo cambiamento. Un abitare contemporaneo in cui le funzioni vengono continuamente allocate all'interno di involucri, di contenitori. Funzioni che però stanno cambiando. Funzioni che non dureranno per sempre. Ma gli esiti di questa progettazione rimarranno per sempre. Un esempio è la Silicon Valley. La Silicon Valley è un deserto che è stato colonizzato da attività molto avanzate tecnologicamente, in cui sviluppo ci permette di vivere quell'accelerazione quotidiana di cui ho parlato prima. Queste funzioni non durano per sempre, durano per un periodo di tempo limitato. Questi edifici però consumano sei volte le risorse che il pianeta potrebbe sostenere per il loro sostentamento. E quindi stanno rubando risorse ad altre parti del pianeta, che invece non consumano quanto dovrebbero, che sono in credito di risorse. La responsabilità del progettista è di trovare un modo per rispondere alle esigenze contingenti senza creare un danno per il futuro. L'architettura di cartone permette questo. permette di pensare un edificio, di pensare la fine dell'edificio al momento del progetto. Progetto alla fine dell'edificio. So già dove andrà a finire. Senza generare rifiuti. L'architettura di cartone permette di dare alla gente, ai gusti della gente che cambiano, ai modi che cambiano della gente, e alla gente che vuole abitare il cambiamento, un modo nuovo di abitare. Io in quanto progettista ho una responsabilità, la responsabilità di rispondere a queste esigenze. Il modo migliore con cui posso farlo è pensare di rispondere oggi alle esigenze attuali, ma farlo senza creare un danno per il futuro. Quindi il messaggio che voglio lasciarvi è questo. Oggi c'è un bisogno, oggi c'è un'esigenza, un'esigenza attuale, concreta. A questa esigenza attuale e concreta si può rispondere in modo immediato e quasi scontato, con delle soluzioni facili. Oppure riflettere bene all'esito che avrà quel nostro gesto. Perché se un tempo l'architettura permanente poteva darci un'identità e una permanenza, oggi creerà solo un danno. Grazie. Grazie.